La gara internazionale d'arte cinematografica La gara internazionale d'arte cinematografica Le bandiere delle 17 nazioni partecipanti In serata i due ministri assistono alla proiezione dei documentari italiani e tedeschi e del film germanico Ritorno L'arrivo del Duca di Genova La serata di presentazione di Corona di Ferro La protagonista Luisa Ferida al posto d'onore La proiezione di un documentario a luce ha iniziato lo spettacolo La protagonista Luisa Ferida al posto d'onore